Slitta il 31 luglio la scadenza dell'avviso pubblico su sostegno alle imprese inserite nelle aree di crisi non complesse. Lo ha deciso il vicepresidente della giunta regionale Giovanni Lolli accogliendo in questo senso le stanze pervenute da alcune associazioni delle imprese abruzzesi. Anche sul Mona rientra nell'elenco delle aree di crisi non complesse. La richiesta formale di CNA e Confindustria, che abbiamo ritenuto fondata, spiega Lolli, è arrivata con una lettera nella quale si chiedeva lo spostamento della scadenza del bando, lettera peraltro anticipata dai vertici delle due associazioni nel workshop sull'area di crisi che si è tenuto la scorsa settimana. L'avviso inserito nella programmazione FSR 2014-2020 sarebbe dovuto scadere nella giornata di ieri. La finalità dell'avviso è finanziare piani di rilancio delle aziende operanti nelle aree interessate, che prevedano investimenti per riconversione industriale, razionalizzazione, realizzazione di nuovi prodotti o rinnovamento di impianti e processi produttivi. Sono ammessi anche progetti di modernizzazione dei processi gestionali, dell'organizzazione, del marketing di imprese esistenti e di nuova costituzione e dovranno prevedere una spesa minima di 50.000 euro. Il contributo concedibile è calcolato riferimento all'ammontare delle spese ritenute ammissibili, considerate al netto dell'IVA e di ogni altro onere accessorio finanziario, se detraibili, e non può essere superiore a 200.000 euro. La dotazione finanziaria complessiva di 16 milioni di euro sarà suddivisa sulle nove aree di crisi non complesse, tra cui sul Mona, in modo da permettere a ogni area di avere un budget ben definito su cui le aziende possano far riferimento.